C'è attesa per la prima di stasera della Passione di Cristo in TV. È stata una corsa contro il tempo, quella fatta da Domenico Presti e dai suoi collaboratori per riuscire a ultimare il montaggio della rappresentazione teatrale svoltasi a Favara lo scorso 20 marzo. In TV stasera dalle ore 21 quindi si potrà vedere l'encomiabile lavoro svolto dai circa 80 tra attori e comparse impegnati nella rappresentazione voluta dai frati minori e messa in scena dalle diverse compagnie teatrali della città unitamente al coro gruppo armonico incontri. Questa sera alle ore 21 in onda la prima parte, domani sera stesso orario invece la seconda. Per quanti saranno impossibilitati a vedere la trasmissione della Passione di Cristo in prima serata Sicilia TV offre la possibilità a tutti di seguire la replica il giorno successivo dopo le edizioni del Tg delle ore 13.55. Un ringraziamento va sicuramente ai diversi sponsor che hanno contribuito per la messa in onda delle due puntate. Sicilia TV anche in questo caso si è resa subito disponibile a divulgare un'immagine certamente positiva della città di Favara.